La cosa che ti colpiva subito era la voce, calda, profonda, da baritono basso, con quella vena un po' rauca e affumicata dalle tante, troppe malboro, respirate con gusto per tutta una vita. Ascoltare Vittorio Zucconi alla radio era un piacere allo stato puro, anche solo per questo. Potevi starlo a sentire per un tempo infinito, senza stancarti mai. Al suo Zucconi risponde, mentre incantava gli ascoltatori alternando con la stessa sapienza un'antologia del neozarismo di Putin e un'apologia dei tortelli di zucca impastati da sua nonna. Al suo TG Zero, mentre strapazzava l'incauto politicante di turno. Di grilli parlanti e di spiriti liberi come Zucconi in giro ne sono esistiti e ne esistono pochi. Il potere non li ama perché non li controlla. A Radio Capital invece questa inesauribile libertà di parola e di pensiero di Vittorio ha avuto la sua vera sublimazione. Forse più ancora che al giornale, al quale ha regalato i racconti, i reportage e le news analisi più straordinarie mai pubblicate, la radio faceva letteralmente esplodere le sue qualità migliori. Scriveva da Dio perché raccontava da Dio e quando il suo racconto sgorgava libero, forzando il confine della lingua scritta ed entrando nello spazio illimitato di quella parlata, la sua anarchia espressiva diventava magia pura. A riascoltarle oggi nei nostri archivi ci sono dirette che senza esagerazione sono pezzi di storia della radio. Dalla seconda guerra del golfo alla morte di Nelson Mandela, alle elezioni dei papi, un florileggio di citazioni religiose tra puntate di battute al fulmicotone, prima le dimissioni di Ratzinger, poi l'elezione di Bergoglio. Per finire la diretta sulla finale Italia-Francia ai mondiali di calcio del 2006, con lui che con la voce ancora più roca a fine partita dice i francesi che avevano già preparato la bottiglia di champagne, adesso sanno dove lo devono mettere e non mi riferisco al frigorifero. Vittorio era così, sapeva mescolare ogni cosa, il sacro e il profano, dentro il suo storytelling perfettamente glocal. Un momento ipnotizzava gli ascoltatori con i suoi ricordi delle parate sovietiche sulla piazza rossa, un attimo dopo li disorientava con le sue rievocazioni da studente del Parini, dove quella d'italiano mi dava sempre tra il 5 e il 6, diceva che andavo fuori tema. Vittorio ha diretto Radio Capital per 22 anni, da Washington è riuscito a creare e a tenere unita una squadra meravigliosa, dove hanno regnato la qualità, la professionalità, ma anche l'amicizia, che nella vita e nel lavoro è la cosa che conta più di ogni altra e per la quale non finiremo mai di dirgli grazie. Quando un anno fa decise di lasciare la direzione, ci vedemmo a pranzo, tra riso in bianco, sigarette e il suo solito fiume fecondo e prezioso di chiacchiere, di storie, di emozioni, mi disse ti voglio dire soprattutto due cose, la prima vedrai che della radio ti innamorerai, come è capitato a me, e poi abbi cura dei nostri ragazzi, sono stati la mia seconda famiglia. Ciao Vittorio, ti vogliamo bene.